Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No finger. prendi la gamba prendi la gamba prendi quel braccio destro dai su si lancia forte bravo prendi quel braccio forte vai 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 tu il braccio è sotto la spalla ancora un minuto dai un minuto Enrico dai posta diamo Enrico dai 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 giù spilazia meglio giù dai spilazia giù giù dai Enrico forte 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 Enrico dai 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 non mollare dai forte forte dai giù brava dallo suere brava Enrico Enrico concentrata 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 stai forte concentrata 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 gira 10 secondi affaire inizia a spingere Enrico forte Enrico forte forza via forte forte via 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 forte giù giù via 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 prova brava Enrico sei forte là forte 4 secondi forte 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 sei forte Grazie!